C'è generale soddisfazione tra i corridoi della Fiera su questi primi due giorni di manifestazione e in effetti la quantità di gente che si vede ne è una conferma. Ma che tipo di contatti state raccogliendo in questi giorni? Io sono soddisfatto di questo inizio Fiera perché abbiamo avuto dei bei contatti con operatori stranieri che onestamente alla vigilia forse non mi aspettavo. I contatti più interessanti li abbiamo avuti dai paesi di area russa, in particolare non tralasciando anche le altre aree ma quello che mi dà più soddisfazione è che i contatti sono prevalentemente sull'estero cosa che noi quest'anno abbiamo puntato con maggior impegno.